ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale del pizzomane scusate ancora se in questi giorni ho cambiato nickname ma come vi dicevo anche negli altri video ho avuto problemi con l'account dovrei aver sistemato tutto e quindi pizzomane è il nickname definitivo quindi proseguiamo da dove c'eravamo lasciati con call of duty ho riavviato la missione perché mi piace fare le cose precise e avere senza avere tagli spezzettamenti di fuori di là ma presto andiamo a vedere quindi questo l'avete già visto facciamo il più velocemente possibile che si può dice alla mamma purtroppo come potete vedere la scena abbastanza cruda importante quello che volevo dire nello scorso video che comunque hanno hanno reso bene il senso di pesantezza delle dei macigni delle macerie solitamente nei videogiochi le macerie sembrano dei pezzi di polistirolo messi lì poi in questo caso mi hanno proprio dato l'impressione di quando finisce la scena mi hanno dato l'impressione di essere veramente pesanti però vedete i soccorritori come si stanno dannando per salvare la la piccola passamela ce l'ho portatela qui la mia farà l'ho ritrovata no 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 fermi dov'è mio figlio parla parla dov'è a dire è rimasto a casa studiante la mamma non c'è più troveremo a dire e lasceremo la città scusate il silenzio ma non vorrei distogliere l'attenzione dalla cazzina tesoro vado a vedere se è sicuro tu seguimi va bene babba fa come ti dico e andrà tutto bene e qui si comincia da dove c'eravamo lasciati con lo scorso episodio spero che non ci siano sparatori di ogni genere anche perché armare una bambina però questo è call of duty dove c'è un call of duty c'è un mitra dietro l'angolo sei proprio coraggio è felino non respirare felta para siamo a casa bravo saremo al sicuro dal gas per ora venite in cucina tutti e due mi dispiace piccolo lei non viene esploriamo un attimino la casa carina però poverina un attimino pa che guardo come la casetta mi piace perdermi nei dettagli si 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 ora arrivo la maschera hai ragione arrivo arrivo papa arrivo mister baba telefono cellulare quindi io mi prendo il telefono cellulare raggiungiamo le montagne li saremo al sicuro venite e se ci prendono baba ti porteranno via e ti rinchiuderanno non voglio andare senza piedi alla bambina ok lo so lo so torneremo te lo prometto a dire sii forte per tua sorella ok ricordalo bene e ricorda tua madre è così che si sopravvive hai capito si papà sentite appena usciamo restate vicini ok saremo bene dietro dietro di me ascolta qui non c'è nessuno solo i miei bambini ti prego e un non può sfar niente grande baba no baba non può sfare niente come bambina ma caspita qua dentro qua dentro no c'è solo roba di merda panico 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 no lo so già che ora faccio una brutta fine no lo so già che ora faccio una brutta fine lo so che faccio una brutta fine Non è... Caspita mi nascondo qua sotto Padentro Poi non mi nascondo Сколько ero ti? Non! Ma come io vorrei chiedere? Будo con un giro E con un sniper? Ho scusato Cosa? Ho scusato il ciò che c'è Ho scusato Ho scusato Ho scusato Ho scusato Un coltello Nel sedere Aia Devo scappare Scappa 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 Dove scappo? Qua 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 c'è qualcosa Cacciavite Mi nascondo Torna qua Altra gamba adesso direi Credi di poterti nascondere per sempre? Forse ho scelto il posto sbagliato C'è qualcun altro? Su vattene via Ecco bravo gira Dov'è la tua mamma? Eccoci qua Forse ho sentito Non mi sfuggi Ecco qua l'altra gamba Aia Un altro fucile in faccia Via 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 Un coltello Un coltello Una pistola Un mitra Un bazooka Porca miseria Nasconderti non ti salverà Mi ho detto che ti avrai trovata Non provi Eccoci qua Noo mannaggia Vuoi uccidermi? Eh si che volevo ucciderti Grande Rambo Vai frate Dai dai Un'automacista Ecco ecco Questo Spara spara Grandissima Nel sedere proprio Sapevo che Prima o poi ci dava il mitra Non avere paura Noi siamo insieme Controlliamo Si potrebbe avere una tessera magnetica Da qualche parte Una maschera Sti russi Rendiamogli il fucile Rendiamogli il fucile Giustamente Pensa troppo Che ansia comunque Sto scena Nel fucile niente Ci nasconderanno Andiamo Va bene Andiamo in mezzo ai papaveri Ragazzi Babà Tesori miei Devi alzarti Non posso Non posso venire con voi E adesso? Sopravvivete A qualunque costo Non arrendetevi E fine Del baba Addio papà Ti voglio bene Non arriva La serratura Vieni Ti tiro su Brutta faccenda Andiamo avanti In mezzo ai papaveri È bloccata Provo a forzarla C'è il grimardello Chiede di porco Ah le forbici Ok Va bene Va bene Eh come al solito Possiamo andare Se non ammazzano qualcuno Se non ammazzano qualcuno Credo che non ci abbiano visto Un momento di tensione Gente morta Fratello Dobbiamo andare Ai 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 Dai ragazza Andiamo Magari è una roba Non si fanno scrupoli Pure i cani Più avanti ci sono dei soldati Stammi vicino Siamo mal messi ragazzi Magari per fare questa missione Si sono ispirati Alla Alla missione Del modern warfare Del 2000 Qualcosa Ambientata tipo a Cerno Non a Cernobil Ripiatti Perché tutta staccati vela Comunque Qui ragazzi Fatemi sapere la vostra Se il video vi sta piacendo Andiamo avanti Gente che è stata investita Povere caprette Non ha sopravvissuto nessuno Qua Questa disperazione Ovunque Di qua Vado avanti a controllare Sei sicuro No ragazzo Perché È aiuto La maschera Con una tensione addosso Io Non oso immaginare Trovarsi in questa situazione Nella realtà Seguimi Sì Arrivo Andiamo fratello Mister Boiz Oh i campi di papaveri Bene bene Dai 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 Che ci siamo Eh forse Sai qua Un papavero e l'altro Tranquilla Puoi respirare Ah Una bala boccata di papaveri A quella che ci voleva Un elicottero Fa che dobbiamo combattere Contro l'elicottero adesso Due elicotteri Via 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 Andiamo con quell'ambientazione Oh segno di nuovo Perché ci fate questo? Eh me lo sto chiedendo anch'io Dobbiamo passare per il pienile Non farti vedere Ok? No Non fare scherzi Capito? Anche tu Contro il pienile Tranquilli Ma tutto con le sparatorie Bisogna risolverle Risolvono tutto col fuoco Sti russi Se noi scappiamo Ci prenderanno Ci serve il camion I soldati ti sentiranno tossire Vado io Vado io Trova un'arma E se ti spaventerai Distraili con il telefono Sì Fai attenzione Va bene Quindi Abbiamo preso la patente Qui qua parlano di armi Quindi da che parte salto di qua? Ma Chiamano il telefono di Adir Questa parla un po' italiano Un po' russo Sì cosa c'è di bello Una pistola Questa si che si ha ragione Però non so se devo andare via adesso Ho fatto una cavolata Chiamano il telefono di Adir Ehi Se viene individuato cambia posizione Eh lo so Lo so lo so ragazzi Ma scusa devo andare subito sul camion Io vorrei salire sul camion Magari mi posso nascondere Caspita mi posso nascondere Chiamano il telefono di Adir Vediamo un po' Forse qua non mi vedono Forse non mi vedono Forse Quindi loro stanno andando lì E io ora Vado a prendere il camion Faccio il giro un po' più lungo Ok Oh 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 Ne ci vuoi eh E' nel telefono Qualcuno vuole giocare Eh sì Ho bisogno di distrarre i nemici Apri Dai 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 ragazza No che prego Ma che cazzo C'è una bambina Ehi Go Oddio non ho sbagliato qualcosa Ma no ragazzi Mamma mia Ma un obiettivo Niente Che scatole Come dice l'obiettivo Ah uccidi i soldati Ma che cazzo C'è una bambina Ehi Bastarda Eh Tira meglio Trovati Eh Sapete che ho messo una bambina Ho appena inizio Quindi Di nuovo mi apposto qui Eh sì Metteremo le mani giustamente Una bambina No Luca No No Non suonare il telefono Che cazzo è Un colpo morto Forca miseria Comincia a farsi Interessante la cosa Cazzo Terino mi posso nascondere Allora Luca Forca miseria Eh lo so che devo mirare meglio No veramente Questo gioco qua L'hanno reso Sono io che probabilmente Sono negato Ma Benissimo Di giocare in modalità Veterano Sbagliato di nuovo L'hanno reso 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 Dove è lì Mi ha visto Non mi ha visto Che lo so Questa mi ha visto Ci sono niente Due poi Mi sporo la sfiera Eh Mi era meglio Niente Devo fare A D-shot A D-shot Sennò qua Non ne usciamo più Speravo che bastasse Un colpo Vedi Facciamo sfumare il telefono Ok Prendiamo la mira E spara Oh Rischio di nuovo Eh Dopo 4 game over Eh andiamoci Andiamoci Al camion E via ragazzi Mettiamo in pratica I nostri mille mille anni Di esperienza Andiamoci Patente Presa presso me stesso No Ancora Prendilo Dai ragazzi Non c'ho più la pistola Sì Sembra che ci ha un catturato Alla fine Quindi siete stati voi Ad aver ucciso i miei soldati Stato lui Perfetto Assunti A tempo indeterminato Vabbè Checkpoint raggiunto Siamo tornati nel presente Siamo un po' Muoviamoci Da qua non ce ne andiamo più Stai bene Stai bene Stai bene Lui dove è Lui dove è Lui dove è Fara Fara Basta Smettilo No E' stato a dire A dire il ladro Capitano Non lo sapevo Ehi non potevi sapere Tranquilla Fara Lo prenderemo Leviamo il culo da qui Ora Quindi c'è un traditore Male Molto male Molto molto male Sempre voluto lottare senza regole Ora le ha infrante tutte Adir è a nord Recuperato sulle colline da quelli di Alcatala Ci ha fatto catturare lui? Non lo sappiamo Mi dispiace Fara Tuo fratello È un terrorista È una risorsa americana O sta con i terroristi O ha in mano loro Adir non vuole di certo noi Poteva uccidere tutti Quando ha rubato il gas Ma non l'ha fatto E tu come lo sai? Ero lì Volevo fermarlo Non me l'hai detto Pensavamo fosse Alcatala Non certo lui Ora lo sappiamo Stanotte lo inseguiremo Vengo anche io Ma è tuo fratello? Non è mio fratello Non più ormai Vargov metterà una taglia su di lui Allora prendiamo prima lui Un'altra complicazione Sarà guerra con la Russia Noi evitiamo le complicazioni È una pessima idea Fara Ci prendiamo cura dei nostri Non è sempre quello che succede Invece sì Voglio fare in squadra E non si discute Va bene Avete facoltà di uccidere Tutti voi Facciamo un brief Le immagini confermano che Adir Era in possesso del resto del gas rubato Quando ha contattato l'emissario più brutale di Alcatala Il macellario La sorveglianza ha seguito i veicoli Fino a un complesso sui Monti Acrus Ritenuto la rocca forte del lupo Alex e Fara resteranno in attesa di autorizzazione Mentre Bravo 6 guiderà l'assalto per individuare le armi chimiche Recuperare Adir E uccidere l'uno Bene 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 E anche questa è andata Perfetto ragazzi Dunque diciamo che il video finisce qui Insomma ne avete visto Ne succedono sempre di tutti i colori Insomma persino mettiamo le armi in mano ai bambini Corbici e quant'altro Insomma un vero macello sto gioco Comunque fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Mi potete trovare anche su Twitch o Youtube A seconda di dove state guardando questo video Mi trovate anche nei social che trovate in descrizione E per concludere niente Noi ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti Dalla vostra amichevole Pizzamane di quartiere